Il Comune di Teramo ha pubblicato sul proprio sito il bando di gara per l'affidamento dei parcheggi a pagamento in città, servizio che ricordiamo da tanti anni nelle mani della Tercop. Una gara da 6 milioni di euro con gestione per 8 anni, che si basa sul project financing della cooperativa sociale Easy Help di Recanati, approvato dalla Giunta nel novembre scorso. Un bando che però ha suscitato numerose polemiche da parte della cooperativa sociale teramana, in primis perché a loro dire non tutela i posti di lavoro ad oggi presenti. Dopo tante dichiarazioni, dopo tante promesse, i nodi vengono al pettine e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro si scopre che è una panzana, cioè una balla. Sostanzialmente i dati del bando sono questi qua, totale organico per appalto, il gestore, quello che propone, 19 assunzioni, poi in più altre 4 di riserve, per sostituire le malattie, eccetera, eccetera, cioè se uno non si ammara 4 persone non lavoreranno, e in più 3 fuori già dall'inizio. Quindi la storia che si salveranno tutti i posti di lavoro è una storia falsa, praticamente prendere in giro i lavoratori e i sindacati stessi che eventualmente si fanno prendere in giro, praticamente non è bello, pure perché poi in fin dei conti prendono in giro pure i cittadini, presentando un servizio come un servizio passi con i tempi, sarà invece una strage di multe a danno degli utenti. Assessore Verna, secondo la cooperativa Tercop, nel bando non ci sono le tutele per i lavoratori. Le tutele dei lavoratori ci saranno come consentite dalla legge, cioè non è un cambio di proprietà, è una pagina nuova, c'è l'impegno di qualche partecipante, lo stesso proponente, comunque a riassorbire chi è all'interno della Tercop, ovviamente questa cosa potrebbe non esserci, da altri concorrenti che faranno altre offerte, che saranno valutate da una commissione tecnica, che inizierà a lavorare alla scadenza delle presentazioni che è a metà giugno. Secondo lei quando si avrà il nuovo gestore? Se tutto va bene, se tutto va liscio, se non ci sono situazioni particolari e all'interno di un ITER complicato come questo, purtroppo ci possono essere tipo dei ricorsi, se tutto va liscio, se tutto è come noi speriamo, pensiamo che entro la fine dell'anno di avere il nuovo servizio della gestione dei parcheggi a termo. Grazie.